ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale di recente ho realizzato questa copertina con questo bel punto allora il tutorial per la spiegazione del punto lo trovate già sul mio canale vi metto comunque sotto il link nelle descrizioni oggi però vi voglio mostrare e spiegare come fare un bordo semplice come questo per rifinire perfezionare e completare nel mio caso questa copertina ma lo possiamo usare anche per rifinire tappeti cuscini e tanto altro allora quando realizziamo un progetto che può essere una coperta un tappeto un cuscino ma anche borse o capi d'abbigliamento per rendere il lavoro più perfetto una volta finito il capo è consigliato a fare sempre un giro di punto basso intorno a tutta la lavorazione questo per allineare e rendere il lavoro più pulito e perché ci facilizza poi la lavorazione del bordo allora io ho realizzato qua per farvi vedere un granny dove ho fatto questo bordino che è molto semplice ma molto molto carino e oggi insieme a voi andrò a farvi vedere la lavorazione di questo bordo su questo granny allora come ho detto prima di tutto andiamo sia che sia una lavorazione granny o qualsiasi altra lavorazione fare un giro di punto basso intorno a tutta la lavorazione userò il filo bianco per farvi vedere poi bene il lavoro nel caso di un granny qua abbiamo l'angolo entriamo all'interno dell'angolo ci peschiamo il filo lo facciamo passare poi io di solito vado a fare un nodino per fissare bene il filo rientriamo peschiamo il filo e andiamo a fare una catenella entriamo sopra la prossima maglia alta e facciamo un punto basso sopra la prossima maglia alta un punto basso un punto basso anche sopra la prossima maglia alta poi qua di solito tra un gruppo e l'altro gruppo nella lavorazione granny facciamo o uno o due catenelle nel mio caso ho fatto una catenella entriamo nello spazio e andiamo a fare un punto basso e poi di nuovo un punto basso sopra ogni maglia alta e nello spazio della catenella un punto basso faremo questa lavorazione fino al primo angolo dove vi farò vedere come lavorare gli angoli lavorato sull'ultima maglia alta prima di arrivare all'angolo qua adesso abbiamo l'angolo all'interno dell'angolo andiamo a fare sempre tre punti bassi 1 2 e 3 e in questo modo lavoreremo tutti gli angolo tutti gli angoli per dare una bella forma e poi procediamo come abbiamo fatto fino adesso un punto basso sopra ogni punto alto nello spazio un punto basso e poi proseguiamo con i nostri punti bassi e così lavoreremo tutta la nostra mattonella e poi ci vediamo qua alla fine che vi farò vedere come terminare il lavoro lavorato sopra l'ultima maglia alta abbiamo ancora l'ultimo angolo che dobbiamo lavorare e anche qui all'interno faremo tre punti bassi 1 2 e 3 e poi chiudiamo questo giro nel primo punto basso con un punto bassissimo e abbiamo terminato questo primo giro adesso andremo a fare il vero e proprio bordino andiamo a fare una catenella prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo il prossimo punto e nel punto successivo andremo a fare all'interno di questo punto 6 punti alti per cui entriamo con l'uncinetto peschiamo il filo lo portiamo di qua tre asole sull'uncinetto prendiamo il filo chiudiamo prima le prime due asole restano due asole prendiamo il filo e chiudiamo le ultime due asole e abbiamo fatto il primo punto alto andiamo a fare il secondo il terzo il quarto quinto e sesto sei punti alti tutti nello stesso punto saltiamo il prossimo punto entriamo in quello successivo e andiamo a fare un punto bassissimo così abbiamo terminato il nostro primo ventaglio filo sull'uncinetto saltiamo il prossimo punto entriamo in quello successivo e qua andiamo a ripetere i nostri sei punti alti 1 2 3 4 5 e 6 saltiamo un punto entriamo in quello successivo e andiamo a fare un punto bassissimo il secondo ventaglio è fatto il secondo ventaglio è fatto filo sull'uncinetto saltiamo un punto entriamo nel punto successivo e qua ripetiamo i nostri sei punti alti 1 2 3 4 5 e 6 saltiamo il prossimo punto entriamo in quello successivo e andiamo a fare un punto bassissimo come potete vedere il lavoro è molto facile però il risultato è molto bello adesso andremo a fare questo lavoro su tutta la lavorazione e poi ci troviamo qua alla fine che vi farò vedere come chiudere questo giro allora ho lavorato intorno tutta la lavorazione e come potete vedere il bordo è bellissimo anche se il punto è comunque molto facile adesso ho lavorato qua le ultime sei maglie alte nella mia maglia saltiamo il prossimo punto e poi ci chiudiamo nel punto successivo entriamo e facciamo un punto bassissimo tiriamo bene facciamo una catenella allunghiamo l'asola tagliamo il filo lo sfiliamo adesso ci procureremo l'ago da lana e andiamo a nascondere i fili all'interno qua delle maglie e quando avremo nascosto tutti i fili ecco qua il nostro bellissimo bordino che come ho detto all'inizio potete usare per rifinire delle copertine dei tappetti dei cuscini ma potete fare anche dei centrini come in questo caso usando una mattonella granny spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao